Ciao a tutti, il mio nome è Rosita, vi do il benvenuto all'angolo del crimine. La storia che voglio raccontarvi oggi è accaduta in Sicilia, precisamente a Giarre, nel Catanese. Una storia di crudeltà e omertà, ma anche terreno fertile per quello che verrà dopo, è un inno al coraggio di cui ancora oggi possiamo sentire l'eco. Siamo a Giarre, piccolo comune alle porte di Catania, e il 31 ottobre del 1980 è incontrato a Iunco, nel bel mezzo di uno sterminato agrumeto, un pastore fa una macabra scoperta. Ma prima degli occhi è il suo naso essere investito da un odore insopportabile, anzi una vera e propria puzza, puzza di cadavere. Inizialmente pensa a qualche animale, l'uomo segue la scia di quello lezzo insopportabile e arriva ai piedi di un pino marittimo, lì capisce che no, non si tratta di un animale. Sotto quel pino ci sono due cadaveri umani abbracciati fra di loro, i corpi sono in avanzato stato di decomposizione, non si riesce quasi a distinguere i loro visi, non si capisce dove inizia uno e dove finisce l'altro, sono un tutt'uno distrutto dalle intemperie. Quando la polizia giunge sul posto, l'unica cosa che riesce a capire è che si tratta di due uomini, due uomini avvinghiati con le mani strette, Giorgio Agatino Giammona e Antonio Galatola, detto Tony. I due avevano fatto perdere le loro tracce due settimane prima, e adesso eccoli lì, sotto quel pino marittimo, in mezzo ai limoni, in piena campagna, morti. Quando la notizia della scoperta dei cadaveri dei due giovani raggiunge Giarre, la voce è un'anime, ha trovato i ziti, hanno trovato i fidanzatini. Ancora Giarre non lo sa, ma niente, sarà più lo stesso dopo quello. Ma chi sono Giorgio e Tony e perché la loro morte scardinerà le fondamenta della società civile? Giorgio e Tony si conoscono nella primavera del 1980 a Giarre, paese natale di entrambi. Quando si incontrano Giorgio a 25 anni, Tony appena 15. Giorgio Agatino Giammona a Giarre è conosciuto come Puppu Cubullo, ovvero gay patentato con il bollo. Puppu, che in dialetto siciliano indica il polpo, è un termine dispregiativo per indicare un uomo di orientamento omosessuale. Nasce a Giarre il 14 novembre 1954, quinto di otto figli. A denunciare la sua nascita al comune non va il padre, come si usava ai tempi, bensì la levatrice che lo aveva fatto nascere. La madre, Caterina Castiglione, risultava separata da Giuseppe Agatino. Il bambino viene registrato come Giorgio Agatino, in realtà è figlio di Salvatore Giammona. Un commerciante di strumenti musicali è insegnante di musica molto benestante, che ha con Caterina una relazione decennale. Quando Giorgio ha sei anni, la madre rimane vedova di quello che per lo Stato è il padre. Giuseppe Agatino muore in un incidente stradale, ma Giorgio, quel padre, non lo conoscerà mai. Il vero padre aveva provveduto a spedirlo in collegio a Catania, al San Francesco di Sales, e lì ci rimarrà per dieci anni. I suoi genitori, nonostante la vedovanza di Caterina, non si sposeranno mai e vivranno per sempre in case separate. Sarà quella relazione fuori dal comune a marchiare per sempre Giorgio, come si dirà, figlio dell'amore e non della legge, vittima di una società fortemente patriarcale e bigotta. Gli anni in collegio saranno importanti per Giorgio, che ben presto capisce di essere attratto dai ragazzi. Solo che aggiarre il suo essere gay non è ben visto. Anzi, subito Giorgio diventa l'elemento di disturbo, quello da disprezzare con epiteti disgustosi. Per tutti è un pupucubullo. Questo perché Giorgio non si era mai nascosto. Entrò quindi a far parte della schiera dei pochissimi gay dichiarati, che però a giarre sembravano tutti usciti dal film Il Vizietto, come ricorda Paolo Patanè, ex presidente di Archie Gay. C'era Aninetta, Ascar Paravecchia e poi c'era Giorgio. Giorgio era molto riservato, taciturno, molto colto, affetto da una leggera balbuzie. Insegnava a solfeggio nel retro bottega del negozio del padre. Tutti aggiarre lo ricordano, in sella al suo ciao, scorazzare per il paese. Per il padre e la madre Caterina, quel figlio sarà sempre una spina nel fianco. L'uomo, per mantenere la facciata, finge che questo aspetto della vita di Giorgio non esista proprio. Giorgio lavora col padre nel suo negozio di strumenti musicali, ma i rapporti sono pessimi. Il ragazzo ruba spesso chitarre e altri strumenti musicali dal negozio per rivenderli a Catania. Con i soldi guadagnati fa regali ai ragazzi di cui si invaghisce, sperando che loro ricambino il suo affetto. Quando il padre lo scopre, lo denuncia, salvo poi ritrattare e modificare parzialmente la versione dei fatti. Non era lui a rubare, ma qualcun altro. Inutile dire che Giammona non riconoscerà mai Giorgio, nonostante Giorgio si presenti a tutti come Giorgio Agatino Giammona. Tanti che in molti pensavano che Agatino fosse il suo secondo nome, anche perché il nome Agata o Agatino è un nome molto comune nel catenese. Nel 1978 viene trovato in macchina con un ragazzo di 16 anni. La reputazione di Giorgio a quel punto è per saper sempre. È tanta la distanza fra Giorgio e quella famiglia sgangherata che spesso il ragazzo finiva per dormire sulle panchine. Antonio Galatola nasce nel giugno del 1965 e proviene da una famiglia molto tradizionale, di più umilestrazione sociale rispetto a quella di Giorgio. Il padre Orazio Galatola, detto Ucatanisi, pende caramelle, palloncini e coriandoli alle fiere di paese. La sua è una famiglia molto unita, dove tutti si vogliono un gran bene. Orazio è il classico padre di famiglia che riunisce i nuovi figli attorno alla tavola a pranzo e a cena. La madre fa la casalinga e i figli sono tutti tenuti a rispettare i genitori. Un modo di intendere la famiglia che Giorgio disconosce totalmente. Il ragazzo viene accolto in quella famiglia come tanti in paese. I Galatola erano persone estremamente portati alla condivisione. Giorgio inizierà anche a lavorare alle fiere insieme a Tony e al padre, con estremo sdegno di Giammona padre. Giorgio e Tony ben presto divennero inseparabili, tanto che in paese presero a chiamarli i ziti, cioè i fidanzatini. Nel 1980 l'età del consenso non era ancora quella attuale. Se non fosse stato per il fatto che erano due uomini, quella relazione sarebbe stata perfettamente legale. La stessa sorella di Tony, santa, ad appena 12 anni, aveva fatto la fuitina con un ragazzo molto più grande di lei. Nessuno ebbe da ridire, si usava così a quel tempo. Come è facile immaginare, la loro fu una relazione osteggiata, specie dai genitori di Tony. Ma attenzione, ufficialmente Tony era solo amico di Giorgio. I genitori semplicemente non vedevano di buon occhio che frequentasse Giorgio. Avevano paura lo traviasse, lo rendesse deviato. Ma tutti sapevano che i due in realtà si amavano e che Tony, sicuramente rassicurato da Giorgio, molto più grande ed esperto di lui, non facesse ormai mistero di stare con il giammona. Non avevano più remore, si amavano e tutti lo sapevano. E tra lo scherno e il disgusto, per tutti ormai erano i ziti. I ziti di giarre. Di loro e del loro legame rimane una foto in bianco e nero, sbiadita dal tempo. I due sono seduti su un divano in similpelle, tanto in voga negli anni 70. A sinistra c'è Giorgio, chioma ruffata e viso quasi infantile, se non fosse per la barba. A destra, l'ovale perfetto di Antonio, con il suo caschetto castano, un sorriso appena accennato. Gli sguardi timidi, vicini, vicinissimi, tanto da toccarsi. Quando i due spariscono, il 17 ottobre del 1980, la madre di Tony chiamerà quella di Giorgio, Caterina. Alla donna, non abituata al fatto che il figlio sparisse di colpo, Caterina dice, mio figlio fa sempre così, va con quelli più piccoli di lui, ma poi torna, non ti preoccupare. A quel punto la madre di Tony si affretta a dire che il figlio però era normale. E per anni, fino ad oggi, la famiglia di Tony ci terrà a dire di non avere nulla contro i gay, ma che il loro fratello non lo era. Era solo un ragazzo un po' babbo, cioè scemo, ingenuo. Sono state dette tante bugie, dirà Enza, l'ultima dei Galatola. La verità è che Tony non avrebbe mai detto alla famiglia di essere gay, mai. Non sarebbe stato accettato e tra il non dire e l'essere ci passa un oceano. I due un giorno spariscono, quindi. Vengono cercati i specetoni il più piccolo dei due e quello con una famiglia meno disfunzionale, come si direbbe adesso. Li cercano sì, ma in paese i pettegolezzi si sprecano e le voci corrono di casa in casa, di negozio in negozio. I ziti si ne fuiero. I fidanzati sono fuggiti. Forse proprio a Catania, dove già allora c'era una nutrita comunità queer. E sarebbe bello se il mio racconto si interrompesse qui. Sarebbe bello se vi dicessi che sì, Giorgio e Tony erano scappati a Catania a vivere la loro vita. Lontano dalle ingiurie, gli sberleffi le prese in giro, lontano da gente che li definiva Puppu bullo. Ma non è così. Quei corpi così deteriorati, da sembrare ormai un tutt'uno, quelle due teste colpite da un solo colpo di pistola, lo confermano. Cosa può essere accaduto agli ziti di Giarre? Gli inquirenti seguono diverse piste. La pistola che aveva sparato, una Bernardelli calibro 7,65, venne ritrovata a pochi metri da loro, mezzo sepolta da pochi centimetri di terra. E a quel punto fu facile giungere a una sola conclusione. La più plausibile in quel momento. I due si erano tolti la vita e si erano sparati un colpo l'uno. Tenendosi abbracciati però, con le mani strette fra di loro. Sembra strano anche a voi, vero? Dall'analisi della pistola però venne fuori che l'arma aveva sparato ben sette colpi. Poi, altra cosa strana, la sicura era abbassata. Come era possibile? I cadaveri dei due giovani indossavano dei jeans e delle magliette chiare, gli stessi abiti con cui erano stati visti prima di sparire. Dentro le tasche dei jeans di Giorgio venne ritrovato un biglietto sgualcito, come lo è la carta quando si bagna e poi si asciuga. Sembravano delle parole di addio quelle. Un addio doloroso. Dice il biglietto. La nostra vita è legata alle dicerie della gente. Non possiamo più vivere. Da una perizia calligrafica venne fuori però che quella scrittura non era di nessuno dei due ragazzi. E se uno avesse sparato all'altro e poi si fosse tolto la vita? No, non si spiegherebbe perché la pistola fosse con la sicura abbassata e semi sepolta. Si inizia a delineare allora l'ipotesi più plausibile. Questa volta davvero? Giorgio e Tony erano stati uccisi. E in effetti quella ha tutta l'aria di essere un'esecuzione. Non possono esserci molti dubbi in merito. Nel frattempo i corpi vennero restituiti alle famiglie che predisposero tutto per i funerali. Sì, perché nessuno ritenne opportuno fare un'unica funzione. Sarebbe stato sconveniente, specie per la famiglia di Tony così tradizionalista e così convinta che quel loro figlio un po' babbo in quella situazione ci fosse finito senza neanche capirlo. E non certo di iniziativa sua. Il 2 novembre è il giorno dei due funerali. Quello del giovane Galatola sono un tripudio di gente, lacrime, commozione e tristezza. 2000 persone al corteo funebre. Quello di Giorgio invece è un funerale mesto, vuoto, freddo. Poche persone, tutte con una gran fretta di andarsene. Verranno tumulati nello stesso cimitero. La data di morte di Tony però sarà stranamente diversa. Non il 17 ottobre, giorno della scomparsa e presumibilmente della morte, bensì un'altra data distante di qualche giorno. Era chiaro che i Galatola non volevano in alcun modo che la morte del loro figlio fosse associata a quella di Giorgio Agatino Giammona. Ma era un tentativo inutile e anche piuttosto ingenuo. In città non si parlava d'altro. Tutti sapevano e tutte allo stesso tempo volevano dimenticare lasciarsi questa brutta storia dei pupi alle spalle. Perché quella gente era gente malata, di cui nessuno avrebbe sentito la mancanza. Anzi, bisognava che facessero tutti la stessa fine, che Giarre tornasse a respirare aria di virilità e decoro. Maschi con le femmine e femmine con i maschi. I giornalisti, neanche a dirlo, planarono sulla storia come avvoltoi affamati. Giarre si riempì di gente dal continente, come si diceva. Gente che faceva domande, gente che parlava di qualcosa che gli a Giarre non aveva mai sentito nessuno. Omofobia. Quello che oggi chiameremmo crimine d'odio. Alcuni fra gli abitanti di Giarre si lasciano intervistare. I più indulgenti diranno che se l'erano cercata. I più integralisti e spaventati paventarono che presto tutti avrebbero pensato che gli a Giarre erano tutti invertiti. Lo stesso pretore Antonino assennato dalle pagine del Sicilia del 4 novembre ebbe a dire questo per difendere la città di Giarre dalle accuse di omofobia. Non si può pretendere di ritenere naturale ciò che non lo è. Dobbiamo dare loro un premio? O che si facciano le cose che fanno loro per non farli sentire isolati? Giarre non li ha uccisi e ora bisogna preservare il buon nome di Giarre. E ancora. Sono portata a credere che la tragedia sia da mettere in relazione più che con precedenti di natura sociologica o sacche di arretratezza mentale della popolazione con una particolare situazione intima o psichica di quei due giovani infelici e deboli al punto da non essere più capaci di affrontare l'urto quotidiano con la realtà amara della loro particolare condizione fisica. Parole che lette oggi sono agghiaccianti. Aghiaccianti non riesco a dire altro. Ma torniamo alle indagini. Inquirenti capiscono quindi che quella ha più il sapore di un'esecuzione. Eppure brancolano un po' nel buio. Pensano che il delitto potrebbe essere maturato insieme alla famiglia di uno o dei due giovani ma non hanno le prove per dimostrarlo. Ma ecco che in loro aiuto viene un ragazzino di appena 13 anni. Il ragazzo si presenta alla caserma dei carabinieri e dice di avere delle dichiarazioni da fare. E quello che dirà si abbatterà sul paese di giarre con forza deflagrante. Ho ucciso io i ziti. Ci ho sparato io. È il 3 novembre, il giorno dopo i funerali e quel ragazzino, altri non è, è Francesco Messina, figlio di Santa Galatola, sorella di Toni. Sì, Francesco è il nipote di Toni Galatola, figlio della stessa santa fuggita con un uomo più grande di lei a solito a 10 anni. Una storia che meriterebbe un capitolo a parte. Mi limiterò a dire che la vita di santa, sposa bambina, è stata un inferno fatto di botte e soprusi. E adesso quel ragazzino con la zazzera bionda, alto e paffuto ma con un viso da bambino, ai carabinieri, confessa che a ucciderli era stato lui, ma che non voleva farlo. Lo dice fra le lacrime, me l'hanno chiesto loro, loro mi hanno costretto a farlo. Questa è la ricostruzione sulla base della confessione di Ciccio Messina. La sera del 17 ottobre, Francesco, detto Ciccio, incontra lo zio Toni insieme a Giorgio in pieno centro di giarre. I due lo invitano a seguirlo. I tre si mettono in macchina ed escono fuori dal paese, lasciano la macchina davanti a un muretto, scavalcano questo muretto e si incamminano verso la grumeto, lì dove verranno trovati sotto il massiccio pino marittimo. Lì Giorgio tira fuori il bigliettino e la pistola. La consegna a Ciccio Messina dicendogli devi spararci un colpo ciascuno in testa. Lo ricordiamo Ciccio Messina è poco più che un bambino, un bravo bambino, cresciuto con i nonni paterni, ripudiato dalla madre, uno di quelli che sta sempre dietro al nonno, che lo aiuta nei campi, che non farebbe mai del male a nessuno, tanto meno allo zio. Solo che sia lo zio che Giorgio adesso lo stanno minacciando, se non lo farà lo ammazzeranno. E Ciccio Messina non può fare altro che sparare ai due corpi per terra abbracciati. Questo è quello che dice il ragazzino, tra le lacrime. Caso chiuso quindi? Non è così semplice, intanto perché Francesco Messina ha solo 13 anni e per legge non è perseguibile. Sono due le strade, o i due ziti hanno deciso di farsi ammazzare dal nipote per questo, cioè perché non avrebbe rischiato la galera, oppure Ciccio Messina ha confessato per coprire qualcun altro. In realtà in paese si dice ben altro. Non solo si dà per certo il fatto che Ciccio Messina abbia ucciso i due ragazzi, ma si insinua anche il dubbio che in realtà quel delitto sia l'atto finale di un gioco proibito che i due avevano messo in piedi coinvolgendo il giovanissimo nipote di Tony. Dopotutto stiamo parlando di due malati, di gente che faceva atti naturali. I conti però non tornavano ugualmente. Per quanto ben piazzato, Ciccio Messina era comunque un tredicenne che non aveva mai maneggiato armi. Sparare in testa a qualcuno con quella precisione presupponeva di certo una confidenza con le armi. Ma anche Giorgio e Tony erano assolutamente per nulla vezzi alle armi. Come avevano fatto a procurarsi una pistola? E poi, possibile che nessuno avesse sentito gli spari? E se li avessero uccisi altrove? Inoltre Ciccio, sentito più volte, cadrà spesso in contraddizione. Una volta dirà di aver sparato tre volte, un'altra sette. Ed è strano perché in effetti quella pistola aveva sparato sette colpi. Ma dai bossoli non vi era traccia. Ed era certo che i due giovani avessero ricevuto un colpo ciascuno. Forse Ciccio li aveva raccolti, ma può un ragazzino presumibilmente traumatizzato dall'avere ucciso due uomini avere la lucidità di raccogliere gli altri bossoli sparati? Dai verbali delle confessioni emergono ulteriori contraddizioni. Ad esempio, nel primo interrogatorio Ciccio dichiara di essere stato agganciato dalla coppia fuori da un bar con un orologio che gli venne consegnato prima di infilarsi in macchina. Poi dirà che quell'orologio gli era stato dato poco prima che sparasse loro, nell'agrumeto. Era lo shock che lo confondeva o qualcuno lo aveva imbeccato? Il procuratore titolare dell'inchiesta è il primo a porsi tutte queste domande. Non riesce a venirne a capo. I carabinieri di giarre però sembrano spingere affinché il procuratore chiude il caso. Perché tutta questa fretta? E se non fosse andata come dice Ciccio Messina? E poi, improvviso, il colpo di scena. Dalle pagine dell'ora quotidiano di Punta di Palermo spunta fuori un'intervista al piccolo Ciccio. Per la seconda volta le parole del ragazzino provocano un vero e proprio terremoto. Il ragazzo ritratta tutto. Non li ho uccisi io. I carabinieri mi hanno picchiato affinché confessassi il delitto. Ma non solo. Il ragazzino tira in ballo l'adorato nonno che sarebbe stato anche lui oggetto di minacce. Se non parli arrestiamo lui. E lui a questa minaccia non sapeva resistere. I carabinieri quindi, a suon di botte, convinsero il cugino tredicenne di Tony, non imputabile per legge, a confessare il delitto. Purtroppo, e vorrei immensamente che non fosse così, quella confessione che tanto puzzava di marcio alla fine accontenterà tutti. Perché lo abbiamo detto, di una storia di puppi ammazzati, non frega nulla a nessuno. L'inchiesta condotta venne chiusa in tutta fretta. Agli atti rimane che uccidere Giorgio e Tony era stato un bambino. Innocente, chiariamolo, ammaliato da un orologio, minacciato, indotto a fare un gioco proibito. Mettetela come volete, ma di quella morte gli unici responsabili sono proprio loro, le vittime, che oltre a essersi fatti uccidere, si sono anche volatilizzati per 14 giorni, riapparendo misteriosamente il 31 ottobre. Sì, perché quel lagrumeto è certo fosse stato battuto dalle ricerche, eppure nessuno li aveva notati. Come è possibile? O forse, secondo opzione, nessuno li aveva cercati. E questa credo sia l'opzione peggiore, se devo dirlo. Non lo sapremo mai, purtroppo. Pensate che tanto l'inchiesta provocò mal di pancia a tutti che i fascicoli ad oggi risultano introvabili. Nessuno era interessato a capirne di più, a scoprire cosa davvero si nascondeva dietro quell'orrendo delitto. Francesco Messina avrà anche evitato il carcere perché non imputabile, ma la sua vita non è stata affatto lineare. Attualmente si trova detenuto in seguito a una condanna per associazione a delinquere di stampo mafioso. Come diceva Fabrizio De Andrè in via del campo, dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fiori. Il letame è la morte degli ziti, una morte che tutti accolsero con quasi sollievo, almeno per quanto riguarda Giorgio. Ma non per tutti fu così. Quella morte risvegliò le coscienze di molti e proprio a Giarra in un modo spontaneo venne organizzata una manifestazione di protesta contro l'omofobia. Quell'evento straordinario fu l'humus ideale nel quale fare fiorire un movimento di liberazione omosessuale a Palermo. Infatti appena un mese dopo la morte degli ziti nacque la primissima cellula dell'Archigay, la prima associazione che lotta da 40 anni per i diritti della comunità LGBTQ+. Fondato da un sacerdote, Marco Bisceglia, un teologo della liberazione, omosessuale e attivista. Insieme ad un giovanissimo obiettore di coscienza, Nichi Vendola. All'interno del circolo Arci operano centinaia di attivisti, fra i quali Gino Campanella e Massimo Milani, che 40 anni dopo, il 31 ottobre del 2021, hanno deciso di sposarsi proprio a Giarra, il luogo simbolo della lotta alla discriminazione e l'omofobia, per, utilizzando le loro parole, sostituire un atto di violenza con un atto di amore. Eppure a Giarra, in tanti ancora oggi, non sono felici di tirare fuori il delitto degli ziti. Non esiste neanche una targa commemorativa in loro onore. Nulla. Solo due tombe spoglie in un cimitero di provincia. Non c'è neanche più il pino marittimo, custode silenzioso dei due giovani. L'agrometo è adesso un parcheggio. Intorno a case, condomini, negozi, cemento sulla memoria. Ma non importa, e soprattutto non è giusto adesso voler dare colpe o altro. La loro morte, come abbiamo visto, ha dato vita a qualcosa di molto più grande e bello, qualcosa che rende loro giustizia. Grazie al loro amore e al loro sacrificio, per primi, hanno cambiato la percezione dell'omosessualità in Italia. E per questo io li ringrazierò per sempre. E si conclude così il mio video. L'argomento, mi rendo conto, meriterebbe ore e ore di discussione. Mi è spiaciuto condensare anni e anni di lotta alla discriminazione in pochi minuti, ma sono certa che la storia degli ziti di Giarra avrà stimolato le vostre antennine empatiche. So che su questo argomento non possiamo pensarla tutti allo stesso modo. Sarebbe utopistico crederlo. Ma vi chiedo sempre di essere rispettosi. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un like di supporto e iscrivetevi per non perdervi nessuno dei miei prossimi video. E a presto con una nuova storia crime. Ciao!